Signora Ashley, lei ha insegnato per molti anni scienze politiche all'Università del Kansas, è esatto? Sì, signor. Lei è nata nel Kansas? Sì, signor. E i suoi genitori erano rumeni? Sì, signor. Dunque, veniamo agli articoli che lei ha scritto per la rivista di affari internazionali. Potrebbe esporre alla Commissione la premessa che sta alla base di quegli articoli? Sì, sono basati sulla constatazione che attualmente esistono al mondo vari patti economici internazionali. E poiché questi sono mutualmente esclusivi, contribuiscono a dividere questo nostro mondo in blocchi antagonistici e competitivi, piuttosto che ad unirli. Infatti, l'Europa ha il mercato comune, i paesi dell'est hanno il Comecon e poi c'è lo CSD. Io vorrei che il nostro governo promuovesse un mercato comune che comprendesse sia gli alleati che i nemici. Persone che fanno insieme affari vantaggiosi non si uccidono tra loro e credo che lo stesso possa valere per le nazioni. Signora Ashley, credo di saperne abbastanza sui rumeni, li conosco bene sin da quando sono diventati comunisti nel 1946. In tutta onestà, davvero, lei ritiene di poter trattare con quella gente? Se lei mi permette, senatore, la Romania è entrata a far parte della sfera di controllo sovietico soltanto nel 1947, anno in cui il re Michele rinunciò al trono. E una costituzione comunista è stata adottata solamente nel 1952. Risponda alla domanda, per favore. La risposta è sì. Io penso che possiamo trattare, penso che dobbiamo. Immagino, signora Ashley, che lei abbia viaggiato moltissimo. No, signora. È stata in Europa? No, signora. E dove è stata? Mi dica, signora Ashley. Ho tenuto delle lezioni all'Università di Chicago, una serie di conferenze a Denver, ad Atlanta e a San Francisco. Tutto qui? Sì, signora. Ah, e lei vorrebbe rappresentare gli interessi degli Stati Uniti d'America, in un paese cruciale fra quelli d'oltre cortina, quando tutta la sua conoscenza del mondo si basa sull'aver vissuto a Johnson City nel Kansas. È così? No, signora. No? Le mie conoscenze sono il frutto di una laurea e di un dottorato in scienze politiche. Ho insegnato questa materia per sette anni, occupandomi in special modo dei paesi d'oltre cortina. Sì, è vero, io non ho alcuna esperienza diplomatica e non sono mai stata all'estero. Ma vorrei ricordarvi che un terzo dei nostri attuali ambasciatori non provengono dalla carriera diplomatica. Un fatto che non tutti però ritengono positivo. Io conosco a fondo la situazione e i problemi del popolo rumeno. So che cosa pensa degli Stati Uniti e perché. Tutto quello che i rumeni sanno di noi proviene dal loro apparato propagandistico. Io voglio riuscire a convincerli che gli Stati Uniti non sono una nazione arrogante, espansionista e guerrafondaia. Vorrei mostrare loro come siamo davvero, come è una tipica famiglia americana. C'è forse qualcosa di male nel farsi conoscere per quelli che si è. Se mi affiderete l'incarico, senatore, mi adopererò perché ci conoscano. E chi lo sa, potremmo anche piacervi.